che è? sei in coda? si ed è ancora lunghissimo fai un vlog a vicenda tutto tutto buon ciao ragazzi noi siamo i nuovi Jan perché è più basso e Busy che sono più alto per i nuovi contenuti meravigliosi del vlog sicuramente migliori di quelli vecchi ormai superati sono scaduti ormai perché ne è quindi online online solillo siamo molesti siamo molesti molesti molestissimi sempre sono la strada della strada mi sento lo sei lo sei ma tu stai filmando facendo una foto non ho capito quindi com'è questa pizza? buon ottimo se mi fai aspettare tanto diventa fredda allora mangiala 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 e vai di pizzetta è un'estate calda non ce la fai più a sopportare questo calore birra HB è un video si ciao che brava persona questo è il posto dove spendiamo tutti i nostri averi ok vuoi far vedere come funziona? funziona così badge senza soldi come sempre lo piatti fa questo suono fai finta di poterti permettere qualcosa ti guardi intorno con aria da nobile non prendi niente perché sei povero e te ne vai dai fai qualcosa cioè ti sto riprendendo crea un po' di contenuti quanto pare di vedere sono tutti un incubo guardate se facciamo una live davvero che montiamo questo video in live nuovi contenuti di Big Rock e di qualcosa no non va bene così dobbiamo essere pronti come cazzo si spegne questo affare spegniti spegniti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti